Chuck a Cinecittà ha un film che si vernicia di giallo a cominciare dal titolo, un alibi per morire. La faccenda dell'alibi non ha alcun riferimento a processi in corso, i delitti perfetti si sa non vanno a finire in tribunale. Ma il giallo non sarà l'unico colore sulla tavolotta del regista. Come si vede in questa scena di nightclub le ballerine color cioccolato sono più che mai di moda nei nostri film, forse per rimediare in partenza i pasticci con la censura e al relativo oscuramento.